Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Dico solo l'ultima cosa, se è questo lo scenario, io penso che ormai anche i governi europei hanno un dovere di chiarezza nei confronti delle opinioni pubbliche, cioè devono dire che se questa è la guerra che vogliamo fare, siamo in guerra. E' inutile continuare a girarci intorno, a usare eufemismi o formule criptiche che servono solo a non far capire niente alla gente, e se è possibile a far crescere ancora di più l'angoscia. Diciamo con chiarezza che siamo in guerra. Ma questo noi non lo possiamo fare a quanto pare. Lo so, non lo possiamo fare. Noi giustamente critichiamo i russi che parlano di operazione speciale militare, ma pure noi usiamo lo stesso tipo di gergo ambiguo. La parola guerra da noi non si può pronunciare, eppure lo siamo oggettivamente in guerra.